Salve! Non siamo mai arrivati così perso sulle piste da sci, quindi si prospetta una buona giornata. Oh ma va qui che led! Hai per caso dei problemi? Ragazzi siamo tornati con i video di sci finalmente dopo due anni di assenza. Siamo a madesimo... Andiamo a farla raffina. Non mi devi interrompere intanto che parla. Siamo a madesimo con il nostro Diabolic, il buon Roby. L'unica cosa che puoi fare è innevare l'alboretto più che puoi durante la giornata. Sarà fatto. Can't wait. Dai ma scusami, la mascherina è attaccata dietro così. Quante da boomer. Stai cagando il cazzo. Madonna, oh, c'ho sempre lo scarpone sinistro che non mi entra. Le unghie le ho tagliate. Le unghie cazzo non le ho tagliate, vero? Sì, tu ridi e scherzi, ma guarda che quello lì c'ha le unghie nere dentro gli scarponi. Dai comunque cazzo. Quindi sei pronto? Ho anche messo il casco nuovo, quindi sono pronto per testarlo. Adesso ho fatto un errore. Ho lasciato a casa i guanti. Bambino. Si vede che non vi è lasciato a due anni. D'estate non servono i guanti. Anche al burretto c'è già nuovi. Ragazzi mi sono accorto che purtroppo ho lasciato a casa i guanti ragazzi. Dopo due anni dovevo dimenticare qualcosa e vedo che le condizioni sono perfette oggi per scegliare senza guanti. Forse è meglio comprarsi un paio di guanti per nemmeno salire perché sto già perdendo le mani qua. Ecco. È arrivata la tua ora. È la mia ora. Ok, madesimo. Attrezzatura sportiva. Ciao. Sono tutti qua i guanti giusto? Gli ho dimenticati a casa. No. Giudicati questi ragazzi. Posso pagare con Satisfate? Si. Orange count. Esatto. Quanto è in totale? 40. Perfetto. Perfetto. Fatto. Grazie, ciao, ciao, ciao. L'avevo già utilizzata ragazzi quando avevo fatto il video dell'Urban Downy la Monza. Però devo dire che tenendola poi sul telefono e usandola tutti i giorni è veramente comodissima ragazzi. Satisfate app per la gestione delle tue finanze a 360 gradi. Oltre ovviamente a poter pagare in tutti i negozi convenzionati con Satisfate, potete pagare multe, ricariche telefoniche, bollettini, bollo auto e moto. È molto comodo dentro l'app, c'è il cashback. Quindi se andate in negozio e avete Satisfate ed è attivo il cashback nel negozio, vi ridanno anche dei soldi. Ovviamente il link in descrizione per il download dell'app che è gratuito. Ragazzi, è molto più sicuro che pagare con le carte di credito proprio perché non lasciate mai i vostri dati sensibili al posto dove pagate. Satisfate è collegato al vostro conto corrente direttamente, quindi lo scambio dei dati è solo tramite IBAN. E questi si chiamano sci, giusto? Possiamo al principiante come si approccia all'uscita. L'ultima volta siamo andati a sciare, siamo stati mezz'ora davanti al tornello. Coglie il guanto, adesso prendiamo un caffè. Guarda eh, già adesso... Guarda eh, adesso parte avanti. Lo mette e parte avanti là. No Albi, no, non hai capito un caffè. Eeeh, siamo sulla neve ragazzi! Sai da quanto tempo è che non faccio la sciolina? Dall'82. No, è questa la differenza dalla sciolina a non sciolina. Dai Albi, molla giù tutto! Molla giù tutto! Guardalo lì. Dai Albi, molla giù tutto! Ops, scusa, non volevo! No, non ci riesci? Non hai ancora le abilità per riuscire a farlo. Dai, da qui dritto, vai. Da qui dritto fino a dove è Roby adesso. Oh! Che concordo! Ah, che concordo! Cazzo, me l'ho sottinata! Devi provare l'emozione, vedersi al borretto arrivare a cannone così. Roby si è mostrato, eh! Ma vedrai che il tot è vendicativo, quindi troverà il modo. Ah, ah, è il tuo di merda! Ah! Ah! Eeeh, guarda lì che... Eeeh, la madonna! Mezza discesa si è già migliorato. Mi sembra la pista perfetta per far cadere l'alboreto. Non troppo ripida! Vedersi passare uno nelle gambe dell'altro. Ah, vuoi provare a passarmi sotto? Ah, per vedere il tuo controllo, volevo proporti qualche salto, ma cazzo, non ne trovo nemmeno un mezzo. Io adesso vado piano, apro le gambe, devi passare sotto senza toccarmi con niente. Se non mi tocchi, 5 euro, subito. Pronto? Vai! Dentro! Vai! Ma incroci! Oh, passa piano, che se no mi prendi le palle. Vai! Eccolo! Ma cazzo, vai! Un cazzo di alboreto! Aspetta, via la mente! Usci! Uscito! Dentro! Eccolo! Passa... Eccolo! Su, sui piedi, sui piedi! Ma cazzo! Ma sei un invertebrato, dai! Ma guarda! Non c'hai muscoli! Vai! Devo vedere il posto... Oh! Apri, apri, apri! Ditto, 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 ditto! Uuuu! Non te li meriteresti così tanto, eh! Però per il contenuto, però... Au, sgaccia... Bastardo! Ragazzi, io vorrei fare una petizione. Perché non è mai alboreto che paga me? Io devo sempre dare i soldi alboreto. E non mi da niente nessuno. E tu non c'hai Satispaio? Inizia a scaricare Satispaio. Con Satispaio, ovviamente, potete... Inviare i soldi, bastanti... Potete inviare... Inviare i soldi all'alboreto con Satispaio. Esatto, come l'altra volta. Una bella cosa. Cercate l'alboreto Satispaio, sempre la stessa menata, eh! Guarda, vedi che ho qui che c'è la rete, Albi. Ho qui che c'è la rete! Oh come, ma di merda, vieni qua! Sei una sletta spazzatura! Per ridere! Ancora! Ottantenne, oh! Prendi un po' di velocità, poi qui, Albo, dopo le piante, dobbiamo tagliare a destra. Dopo le piante... Dove c'è non questo ovetto quello prima. Ma vieni qua, allarga, vado dritto? Dopo quel mucchietto di piante lì, Albi. Dopo le piante... Dopo le piante. Madonna, ma che uomo è! Ma che cos'è? Vai, dritto! Piccolo ripassino. Peso indietro. Peso indietro tantissimo, infine, la fresca. Più che puoi, soprattutto con gli sci, così devi star tanto indietro. Sì, che poi non c'è giù niente, eh, però... Dai, molla giù! Vai, vai, vai! Molla giù, che non c'è giù niente! Dai, Albi, fammi vedere il salto lì, sul canale. Oh, Roby! Eh? Ce l'ho fino alle ginocchia! Pauder oggi! Fino alle ginocchia! Sto indietro, sto indietro, aspetta. Lascia fare a me. Avrai tutte le illuminazioni e gli aiuti necessari. C'è poca neve ed è dura! Senti qua che rumori! Cacca, 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 cacca! Scuola di fechi, l'importante è che tu, quando fai la curva tipo di qui, devi guardare in esterno. Quando fai la curva di qua, guardi in esterno. Frena un po' di qui, frena un po' di qui. Sei contromano! Non è contromano, cazzo! Eh, eh! Eh, là! Vai, due curve, due curve in fechi! Due curve in fechi, Albi, bravo, vai! No, dall'altra parte, dall'altra parte! Dall'altra parte è un po' dura, però! Dai, bravo, cos'è? Vabbè, ne ho! Fammelo vedere in oppo, vai! Oh! Minchia! Puttana! Eri stiloso, Albi! No, perché erostiere non è che si compra, cioè! Però poi, quando si mette uovo! First trick of the season! Oh, il paletto! Primo centro della stagione, Albi! Ragazzi, purtroppo, non ci sono molti impianti aperti, perché c'è vento. Però, proprio là, due anni fa, avevo rifatto il mio primo flip in sci, dopo tanti anni! Saluti! Adesso mi sono toccato il cazzo! Uso l'aircourt! No! Ho cambiato musica io, Roby! Guarda! Ehi, la! Ehi, la! Dentro! Arrivo Alpi, arrivo E niente Oggi prima giornata di sci Done and dusted Ragazzi tra l'altro Obiettivo che avevo già Prima nel 2020 Inizia a fare le linee XL degli snow park Quindi si può dire che adesso si può Però l'ho detto apposta a fine video Non è che come col cross che l'ho detto all'inizio di un video Faccio flip con la moto e poi tutti i video dopo Così solo i veri fedeli lo sapranno Scrivete sotto nei commenti Io so il segreto di Toso Giornata conclusa, primo giorno di sci Dopo due anni finalmente Mamma mia finalmente Mi mancava troppo Un commento velocissimo sull'arboreto Mi ha emozionato Quei 180 finali non filmati Quindi che solamente chi c'era ha potuto vederli Aspettatevi altri video di sci per questo inverno Andiamo alla prossima Lockdown generale del mondo Niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Bella